Il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio ha ricevuto il vice presidente della regione Precarpazia Pietro Pilic in visita istituzionale in Abruzzo. La delegazione polacca era formata da esperti e diplomatici. Ad accoglierli anche il presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta, il presidente della Camera di Commercio Pescarachieti Gennaro Strever e il presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia Antonella Ballone. Durante la visita è stato tracciato lo scenario di una futura collaborazione descrivendo possibili opportunità per la crescita dei rapporti economici e culturali tra le due regioni, sottolineando le innumerevoli affinità culturali ed economiche.